No, le voglio chiedere dal suo punto di vista, no? Noi cerchiamo di capire le cose, dicevamo se l'analisi dicesse che la Tava è inutile, la Lega ingoia il boccone amaro. Guardi, l'analisi costi-benefici può essere fatta in molti modi, infatti è anche per questo che siamo tutti molto curiosi di vederla e spero che non ce la facciano, diciamo che non la trattengano fino a dopo le elezioni europee, nel senso che spero che sia possibile darci un'occhiata per capire come è stata fatta, perché ovviamente è fatta di stime, fatta di imputazioni, di costi di vario genere, di benefici a volte presunti o stimati, per cui tutto dipende da come viene fatta, penso che venga poi alla fine utilizzata, verrà un po' utilizzata per trovare un accordo, fare qualche modifica, quindi si farà qualche accorgimento, qualche limatura al progetto della Tav in cambio del voto sulla 18 e sarà questo tipo di scambio, io penso che sarà una roba del genere molto laicamente, non lo sto dando, voglio dire, non è una cosa bella, però non voglio dare giudizi di valore, ma credo che poi alla fine la stiano tenendo nel cassetto per tirarla fuori a questo fine insomma, e poi mettere a tacere e ripartire. Certo il problema di un governo che si è basato su, non su una alleanza programmatica di linea politica e di visione politica, ma su un contratto punto per punto, però poi come linea politica, come visione... Sicuramente inedito, devo dire, come metodo di un contratto punto per punto. Sì, anche perché poi, come diceva prima, le regole ci sono... Poi giustamente, il contratto non può contemplare tutto, perché se scoppia un macello in Venezuela non si può prevedere. Quello che succede è che ci sono nel governo di un paese mille fattori, mille elementi, mille situazioni che non possono essere previste o messe in un contratto all'inizio e poi lì i nodi vengono al pettine, soprattutto quando hai un movimento come il 5 Stelle che al suo interno c'è un po' di tutto, posizioni di ogni genere, per cui... Allora, no, Marco...